in poche parole grazie a facebook certi compagni riesce a trovare tutto quanto però che siccome sono tutta una netta che chiamano la scuola sono tutta una netta così si riesce a rintracciare tramite facebook ci vogliamo organizzare non facciamo sempre le solite cose a pizza cosa ristorante facciamoci una partita di calcetto bello 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 mo pechi mo pechi uno di una netta dice chiami Ocampo comunque chi si chiama Ocampo calcetto allora noi siamo in dieci faccio il calcetto tutto bene il cambio a disposizione c'è solo un problema ehm tengo i spogliatori non vado rotti sto facendo il lavoro so tengo i spogliatori non vogliono né cosa io comunque vado a spugliare e rimbetti tengo il barro con un bagno romico vado a spugliare in tuo bagno tenendo un bel gusto anzi ecco fanno una netta non c'è nessun problema ci spugliamo in tuo barro a partita dell'otto si presentano i sette e mezzo allora dove ci spugliamo e tenendo una netta così allora i barri rimbetti vanno e rimbetti mentre sanno c'era tutta cosa tutti i completini russi i completini blè fanno 4 5 contro 5 e le buono rinno il barra tra sono tutto imbriato ciò andò mette vicino un bagno una cicchettina e pira si fa come la laccia comunque in poche parte dopo mezzo dopo mezz'ora possono nascere tutti i nanetti in fila passano proprio vicino a questi nanetti che passano per gli agli di qua visto come e pedo fa che lo che ne porto lo bar se ne stanno fino a nei guaturi no picchiati ahahahah 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 ahahahah